Finalmente, dopo tre giorni, il vero mare di Formentera. Grazie a Giulia, ci ha salvato veramente. Una vera guida qua. Anche a Marcellino. Comunque il mare di Formentera è fattibile. Sì, abbiamo la Sardegna, sì, abbiamo la Puglia, però... Non so se mi spiego. Oh, allora, ribottini, i nostri prelemi finalmente possono godersi il mare di Formentera. È uscito il sole, hanno fatto delle giornate molto grigie, sono pure lamentati. Hanno passato dei pomeriggi con le maschere, le beauty mask, a letto senza fare niente. Adesso possono divertirsi. Qua c'è Pierpaolo in piscina. Ciao!